Si intitola Disco Paradise il 25 maggio uscirà tra tre giorni ed è il nuovo singolo di FedEx al secolo Federico Lucia e la bella Anna Lisa che vi ricordo ha letteralmente conquistato tutti grazie alla sua canzone intitolata Mon Amour che è diventata virale oltre che sul web mi permetto anche di dirlo in radio infatti è una delle canzoni che più spesso viene trasmessa su TikTok il brano è diventato ormai virale infatti molte persone la vanno a cantare e ci vanno a fare delle scenette dietro è un'estate nuova quella che ci apprestiamo a vedere già il buon Mengoni ed Elodie si preparano con il loro bellissimo non che meraviglioso singolo e adesso anche FedEx e Anna Lisa con Disco Paradise un disco che probabilmente lascerà il segno da come si legge sul web infatti già qualcuno sapeva che era in arrivo qualcosa di nuovo o meglio di epico e questo è il risultato che i più andavano a sospettare o meglio a recepire va bene? Ora bisogna soltanto godersi questo nuovo singolo attraverso la capacità il brio e il talento di FedEx vedete che uscita e analisa dal narratore italiano è tutto iscrivetevi se vi va commentati ciao a tutti